Buongiorno a tutti, sono Enrico Maria Cornis, Portardo24, siamo gli ski test di Pankpeago in cui le aziende presentano tutti i prodotti per lo sci del 2017, siamo con Mauro Wuric di Atomic che ci presenta il Redster 150, uno sci race super professionale ma venduto anche commercialmente. Questo è il nostro scarpone di punta, partiamo dall'intersuola sotto che ha dimensioni differenti di punta e di coda per la trasmissione degli impulsi, più corta davanti e più lunga dietro, una cosa fatta da Atomic che nessuno ha, nella parte dietro c'è lo spinale che praticamente è un caricato in carbonio che parte dalla parte bassa e arriva fino in cima, nelle trasmissioni è molto veloce a trasmettere gli impulsi e non ti lasci in caso di arretramento a cedere, non cede quasi niente. Già questo scarpone di durezza 150 per cui roba da gara, da atleti, da sciatori comunque molto esperti e in più questa parte incaricato di carbonio dicevi che rende lo scarpone, questa parte lo scarpone 250 volte più dura dell'altra. Esatto. Uno scarpone davvero molto particolare. È uno scarpone particolare adatto alle persone che veramente sciano in maniera bene, in maniera accesa, non disdegna neanche dalle persone che non sono proprio bravissime a sciare perché appunto la parte dietro è rigida però la parte davanti è abbastanza d'utile da farsi adoperare anche da chi non sia benissimo. Poi abbiamo nella parte posteriore sempre lo stesso, la possibilità di intercambiare il gambetto di tre gradi a destra e di tre gradi a sinistra per chi è valgo, per chi ha le ginocchia verso l'interno e verso l'esterno e questo comporta una possibilità di appoggio allo scarpone completamente centrale. Ovviamente uno scarpone così professionale deve per forza avere infinite possibilità di regolazione. Questo senz'altro perché più andiamo in su con il discorso tecnico e più deve avere le funzioni di esaudire tutte le funzioni di un ossiatore, di un ginocchio storto, di una caviglia messa male. Poi andiamo a finire davanti che questo è un punto cruciale nostro perché solo noi abbiamo questo tirante davanti che praticamente dalla fibbia davanti una va a appoggiare e si regola per prima nel gambetto, mentre l'altra che è regolabile con uno strap va a appoggiarsi alla linguella dello scarpone mantenendo la linguella appoggiata alla tibia in maniera eccessa. Perfetto. E in più dicevi che uno scarpone di questo genere ha addirittura tre diverse intersuole di tre spessori diversi. Non sono di spessori diversi, sono proprio tre intersuole di durezza diversa, c'è la durezza gialla che è la più morbida, la durezza bianca che è l'intermedia e la durezza nera che è rigida. Questa intersuola però non è flottante, non è libera, è intagliata nello scarpone, quindi entra nello scarpone con tre linguelle e la scarpa diventa più flessibile nel momento della pressione dello scarpone o meno flessibile in base a quello che tu utilizzi nell'interno della scarpetta. Grazie. 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 Buongiorno a tutti, sono Enrico Maria Corno di Sportardo 24, siamo agli SchiTest 2017 all'Alpi di Pampeago, siamo qui con Mauro Wuerich di Atomic per presentare lo scarpone più rivoluzionario di tutta la prossima stagione invernale, è l'Atomic OX Ultra 130 ed è rivoluzionario perché pesa soltanto 1,6 kg per cui circa il 30% meno di qualsiasi altro scarpone che dà le stesse prestazioni. Come ha fatto Atomic a trovare questo sistema per avere uno scarpone da scila discesa che pesa come uno scarpone da scialpinismo? Sì, pesa quasi come uno scarpone da scialpinismo, è uno studio fatto da due anni già che lavorano su questa scarpa perché l'hanno provata in ghiacciaio per le varie temperature perché la problematica di questa scarpa era che non esplodesse con le temperature fredde perché essendo di dimensioni minime come volumetrie della plastica avevamo il problema che potevano esplodere. Ecco, quindi la ricerca tecnologica di Atomic ha puntato a ridurre gli spessori trovando una plastica particolare appunto che permettesse questo senza necessariamente cambiare e stravolgere il genere della plastica. Questo alla fine dei conti rimane sempre uno scarpone molto leggero ma che dà le stesse prestazioni degli altri. Alla fine in conti è sempre un 130 di durezza. Sicuramente è uno settore medio-alto, ne trova il profitto ad operandolo e anche sicuramente nell'utilizzarlo sente che ha le stesse prestazioni di uno scarpone che pesa molto di più e quando è la fine della giornata DC ha portato in giro per il mondo molti, molti meno chili tutto il giorno. Quindi è anche un defaticamento di una persona, quindi arriva la sera che non è stanco per aver portato tutto il giorno uno scarpone che pesa oltre due chili ma con questo ha le stesse prestazioni con meno sforzo.